Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light, in questo video vediamo come attivare la God Mod in Windows. Questo trucco funziona per Windows 8.1, per Windows 10 e anche per Windows 11. Ma prima di mostrarvi come fare, che cos'è la God Mod? Semplicemente ragazzi, in una sola cartella vengono racchiuse le funzionalità di Windows, anche quelle nascoste che di solito Windows non mostra, e quindi troveremo anche delle funzionalità che non conoscevamo prima. Questo perché il comando di cui vi mostro oggi permette di vedere sia le impostazioni visibili a tutti, ma anche quelle nascoste, che adesso andremo a vedere insieme. Fatta questa premessa, come si fa per attivare la God Mod? Semplicemente ragazzi, dovremmo creare una cartella sul desktop oppure in una cartella dove preferite. Io ho scelto di crearla all'interno di questa cartella, dopodiché semplicemente la creiamo, nuova cartella. A questo punto andate in descrizione e copiate questo comando. Una volta copiato, andate nella cartella vuota che abbiamo appena creato, tasto destro, rinomina e incollate il comando che abbiamo appena copiato. Premiamo invio. A questo punto ragazzi vi appare automaticamente questa nuova icona e sotto ragazzi sparisce il nome. A questo punto ci facciamo due clic e come vedete in ordine alfabetico possiamo trovare ogni tipo di funzionalità di Windows e ogni tipo di comando, tra cui anche comandi nascosti. Ovviamente non ci resta che scorrere giù e vedere un po' cosa ci potrebbe interessare. Ad esempio, se io clicco su disattiva animazioni non necessarie, mi appare questo, che di norma per poterlo trovare bisogna andare sul pannello di controllo, accessibilità, centro accessibilità, facilita la visualizzazione. Siccome questo processo è abbastanza lungo in secondi, con questa cartella della God Mode, con un semplice clic ci appare, quindi risparmiamo un sacco di tempo. Questo è solamente un esempio, poi come vedete ci sono tantissimi altri comandi. Comunque in pratica, se vi potrebbe interessare, per velocizzare il PC e aumentare gli FPS in gioco, aprendo disattiva animazioni non necessarie e andando in basso, dove c'è scritto disattiva tutte le animazioni non necessarie se possibile, se voi andrete ad attivare questa voce e poi cliccando su applica e ok, noterete sicuramente una bella differenza. Poi mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. E nulla ragazzi, non vi resta che scorrere e cercare ciò che potrebbe interessarvi. Ad esempio qui abbiamo anche Mostra RAM del computer, in cui possiamo vedere direttamente tutte le specifiche del nostro computer, tra cui processore, RAM installata e tutto il resto. Possiamo rinominare il computer andando su Cambia. Questo è molto utile per farsi riconoscere, per dire ragazzi, questo è il mio computer e non sono semplicemente un desktop o due TB e tutto il resto. Comunque davvero ragazzi, c'è di tutto. Non vi resta che testarle. Spero che questo video vi è stato d'aiuto se si lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light. Ciao e alla prossima.